Applausi Grazie. 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 Neanche io. Guarda là, eh. Neanche io. Oh, hai fatto la foto a Stefano in Ginza? E dopo la faccio. Perché secondo me non mi prendo il Ginza Stefano. Adesso, adesso, adesso. Adesso, adesso. Adesso. Faccio la foto. Poi la metto sul sito. Anche i campioni hanno Ginza. Questa è sempre. Sai che questa va sul sito diretta? Con tutti i commenti stupidi. Togliamo. C'è tuo marito. Grazie. Grazie.